I beni posseduti dalle famiglie Ametovic e Alilovic sono di sicuro sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati, ma non è sufficiente per confiscare quei beni, manca il nesso temporale. Parola e musica di Francesco Gratteri, presidente del Tribunale di Prato, che prova così a spiegare alla carta stampata il senso di un'ordinanza emessa martedì e che sta facendo molto discutere anche a livello nazionale. Il provvedimento col quale i giudici dispongono di fatto alla restituzione a 14 membri delle famiglie Rom, appunto Ametovic e Alilovic, originarie della Bosnia, storicamente però radicate a Prato, beni per quasi 2,5 milioni di euro che erano stati sequestrati nel giugno del 2017 attraverso un'operazione capeggiata dalle fiamme gialle e denominata Falsi Poveri. Non è facile far capire a chi non mastica diritto quanto accaduto, ma la norma prevede che le manifestazioni di pericolosità, dice ancora Gratteri, debbano essere temporalmente prossime all'acquisto dei beni. Nicolosi, intanto il procuratore di Prato, ha evitato di polemizzare col Tribunale, annunciando che nei termini previsti dal codice, vale a dire 10 giorni, chiederà però la sospensione dell'ordinanza e farà ricorso in appello. Ovviamente soddisfatti invece, ma poco loquaci, le famiglie Ametovic e Alilovic, parla per tutti Diula, la matriarca della famiglia Ametovic. Dormo ancora per strada, dice, non mi hanno assolutamente intereso niente, non abbiamo per adesso visto neppure un soldo di quei 2 milioni e mezzo di euro.